Nascono le autostrade intelligenti, in grado di far risparmiare energia e migliorare la sicurezza stradale. Utilizzano una segnaletica orizzontale bioluminescente, in grado di assorbire luce di giorno ed emetterla di notte fino ad un massimo di 10 ore. Quando la temperatura scende sotto lo zero un particolare sistema segnala il pericolo. Inoltre, luci interattive che si accendono solo al passaggio dell'auto e lampioni a turbina alimentati da correnti d'aria generate al passaggio dei veicoli. E per finire, corsie di campi elettromagnetici in grado di caricare le auto elettriche in corsa. Il primo paese a sperimentare queste vere e proprie strade del futuro sarà Barabant, nei Paesi Bassi, dove saranno pronte entro la metà di quest'anno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!